Un uomo di 46 anni, originario di Ravanusa, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di furto aggravato. Antonino Savitteri, questo è il suo nome, è risultato aggravato già da numerosi precedenti per furto di bevande alcoliche e ai danni di diversi esercizi commerciali siciliani. Questa volta è stato sorpreso all'interno di un discount cittadino da un poliziotto dell'ufficio volante della Questura di Ragusa, libero dal servizio, che lo ha visto mentre nascondeva sotto il giubbotto diverse bottiglie di liquore di note marche. La gente, in modo defilato, ha monitorato i movimenti dell'uomo che, senza destare ulteriori sospetti, ha oltrepassato le casse senza pagare. Immediatamente bloccato dal poliziotto, Savitteri non ha potuto fare altro che estrarre ben sette bottiglie di un noto amaro, per un valore di oltre 150 euro. Con una tecnica ben collaudata e grazie ad apposite tasche interne opportunamente ricavate all'interno del giubbotto indossato, era riuscito a nascondere dalla vista dei cassieri la merce rubata, di fatto riuscendo ad allontanarsi con l'area furtiva. Condotto negli uffici della Questura, Savitteri è risultato anche inottemperante alla misura dell'obbligo di dimora nel comune di Ravanusa, in provincia di Agrigento. È stato quindi tratto in arresto per furto aggravato con recidiva ed inottemperanza alla misura cautelare. Su disposizione del pubblico ministero di turno è stato quindi rinchiuso al carcere di Ragusa. Qui resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria. Grazie a tutti.